Nel penultimo atto della stagione al Cardarera, la Sant'Angiolese sciorinano a buona prestazione, soprattutto nella prima frazione ed impone lo stop alla Ciappazzi, reduce da tre vittorie consecutive. Costantino fischia l'inizio del match e dopo 20 secondi la gara è già in discesa per gli uomini di Palmeri. Infatti Bontempo, imbeccato da Gullà, supera il portiere ospite e sblocca il match. Terzo centro nel 2015, nonno complessivo in stagione per il numero 6 bianco-azzurro che rimane a terra dopo aver trafitto Bucca. La Sant'Angiolese, con balastro, tranchite e mangano in panca, continua a premere e all'undicesimo per poco non raddoppia. Crossa dalla destra di Bruno, in aria ben appostato passa l'acqua e non riesce a centrare lo specchio della porta. I locali sembrano arrembanti e al diciannovesimo Gullà lanciato nello spazio gira a rete la sfera con l'estremo delle terme che si rifugia in angolo. Il raddoppio sembra nell'aria e arriva alla mezz'ora quando, sugli sviluppi di palla inattiva, Gullà dalla sinistra calcia sul palo a posto, battendo Bucca e decretando il doppio vantaggio. Undicesimo centro stagionale per il numero 10 Brolese, che delizia gli spalti con l'ennesima prodezza su palla inattiva in questa sua seconda stagione in bianco-azzurro. Subito il raddoppio, la Ciappazzi cerca di scuotersi e nel finale di gara crea qualche pericolo dalle parti di Lamonica, con l'uomo più rappresentativo, Leone, il quale viene fermato due volte consecutivamente intorno al quarantesimo dalla retroguardia locale e subito dopo, su calcio di punizione, trova l'estremo di casa pronto a dirgli di no, con sfera che, giunta sui piedi di Mandanici, finisce alle stelle. Il punto esclamativo al match, al quarantottesimo del primo tempo, lo mette ancora una volta Ciccio Gullà, il quale, ben imbeccato in aria da Capitan Pintaudi, gonfia la rete di Bucca calando il trist di giornata. Nardi striglia i suoi negli spogliatoi e a inizio ripresa la Ciappazzi entra in campo con un piglio diverso. L'occasione per accorciare le distanze capita al neoentrato Siracusa, il quale, sugli sviluppi di palla inattiva del solito Leone, respinta dalla barriera, calcia a rete non inquadrando lo specchio. Al sessantaquattresimo ancora Leone, su punizione, pesca in aria maesano, ma la conclusione si spegne fuori di poco. Dieci minuti più tardi ci prova ancora Siracusa. La Monica deve alla sfera in angolo. Il meritato gol della bandiera, soprattutto per la reazione nella ripresa, giunge al settantasettesimo, quando, sempre da palla inattiva, il palo dice di no agli uomini di Nardi, ma la sfera, rimessa in aria, viene insaccata Siracusa al quinto gol stagionale, terzo consecutivo in stagione. Il gol non galvanizza gli ospiti e, paradossalmente, sono i biancazzurri di casa, nell'ultima parte di gara, a sfiorare il poker. Prima con Gullà, all'ottantasettesimo, buona la fase di preparazione, un po' meno quella di finalizzazione, e un minuto più tardi con Tranchida, che non riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marchetori.